Ma dove? Prova a vedere lì nella libreria, dai, dove c'è lo scaffale con il libro con la scritta gialla. Qui? Sì, brava, lì. Cerca, cerca, cerca. Di là, a destra, a destra. Casi sicura? Non lo so, prova a vedere più in alto, allora tra i cd o dove c'è il mappamondo? Sì, ci provo, eh. Sì. Qui c'è una cosina, ma non c'è. No, no. Lo vedi? No. No, in alto? Niente. Sei sicura che qua? No. Magari è caduto sotto la poltrona, prova a dare un occhio. Di qui? Sì. Qui sotto? Sì. Lo vedi? Sei sicura? Cerca bene, cerca bene. Non c'è. No. No. Allora prova a guardare sugli scaffali quelli in basso. Ah, sì. Quelli in basso, brava. Qua, eh? Sì, quelli lì, brava, brava, brava. Quelli, cerca, cerca, cerca. Ma... Non c'è, neanche lì. No. Niente, allora vuol dire che l'ho perso. Ma dove? Eh, l'avrò perso. Ti posso offrire un po' di champagne? Ma chi mi hai preso? Scusa, ma come ti permette? Ma chi ti conosce a te? Ma chi? Ma chi ti... Le pornò a cou powder? Ma chi dà? Ma chi? Ma chi no? Grazie a tutti.